Dalle ristrutturazioni architettoniche alla tutela ambientale in un 2023 intenso e allo stesso tempo produttivo sotto numerosi aspetti, il bilancio dell'amministrazione comunale di Minervino Morge passa dalle parole del sindaco Maria Laura Mancini. Abbiamo veramente cercato di utilizzare tutte le risorse al meglio per il bene comune, ristrutturando beni meravigliosi come il Monumento Faro. Abbiamo ridato vita al nostro corso Matteotti rendendolo con i marciapiedi pedonali e quindi accessibili in sicurezza a coloro che vogliono attraversare il nostro corso anche passeggiando. Ma non solo questo, abbiamo contrastato come avete riferito la questione degli incendi. Circa 400 focolai, di questi 400 focolai alcuni veramente molto importanti in cui sono in corso anche contenziosi con le proprietà per la bonifica, perché all'interno poi di determinate cavi e zone si sono trovate coballe. Abbiamo avuto questo problema dei rifiuti importanti nel nostro territorio, ma stiamo contrastando il tutto veramente con l'aiuto delle forze dell'ordine, con le indagini che sono in corso. Sarà un 2024 ambizioso per Minervino, con numerosi fondi da utilizzare, ma anche con un preoccupante punto interrogativo sul possibile aumento della TAI. Il sindaco non nasconde le insidie economiche dietro l'angolo, ma promette impegno per monitorare la situazione finanziaria del comune dell'Abbatto. Noi ci teniamo ad utilizzare i nostri soldi, i soldi del bilancio, i soldi della comunità, per crescere, per far sì che Minervino diventi veramente un centro turistico, perché questo è quello che vogliamo, solo che sono seriamente preoccupata. Questi soldi li utilizzeremo per tutto quello che ci eravamo prefissati o per coprire l'aumento della TAI?